Le tasche dell'Interactive Wall possono contenere fino a 30 immagini o contenuti informativi e una registrazione da abbinare. Per registrare è necessario impostare il pulsante sulla registrazione, premere il tasto verde accanto alla tasca e registrare un messaggio. Per riascoltarlo basta impostare il pulsante sulla riproduzione. La risorsa supporta fino a 10 secondi di registrazione e offre innumerevoli possibilità di gioco. Ad esempio, tutti gli alunni della classe potranno registrare un breve messaggio per presentarsi. Ci sono abbastanza tasche per contenere tutte le lettere dell'alfabeto. Il gioco è adatto anche per le attività foniche, per visualizzare parole importanti o esporre fatti chiave emersi durante le attività scientifiche. Questa risorsa è perfetta per identificare le forme, risolvere i problemi e verificare che i bambini abbiano imparato gli orari. Per le infinite possibilità di utilizzo, questa risorsa è essenziale in qualsiasi ambiente.